Buon appetito! partiti Stocco e Samuele in line il primo tempo che abbiamo segnato è quello di Cristian Vignaza per 19 rate 19.367 è il tempo di Stocco e Samuele 20.60 è il tempo di Mera Fabrizio in posizione vai 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 Mizzotti Cristian Mizzotti Murban Vai 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 Vagliazzo più del 18 703 e besana 19 705